Siamo a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono il fenomenale Akuma X-Rex per voi E oggi vi mostro subito la mia build del PC da gaming Due sole premesse, la prima è che voglio ringraziare a tutti, ripeto a tutti, per aver contribuito questo mio grandissimo progetto E vi ringrazio col cuore La seconda premessa è questa, questo PC da gaming non sarà operativo fino a quando non arriverà il monitor definitivo Comunque sì, adesso ragazzi, vi mostro la mia build Iniziando prima con i pezzi piccoli e poi quelli grandi Cominciamo subito raga con questo primo pezzo del PC da gaming Ovvero, sabret SSD, intendo di 512 giga di memoria Allora ragazzi, questo qui è la, diciamo, la prima unità di memoria Perché poi ci sarà anche la seconda che vedrete in seguito Comunque, questo gioiello mi è costato 79 euro e 99 centesimi Il secondo pezzo del PC da gaming è questo Anzi più che uno, direi anche due Perché questi si trattano delle RAM, ovvero Crucial Ballistics Che entrambe ne portano 8 giga Quindi insieme ne fanno un totale di 16 giga E portano fino a 3000 MHz Colore nero, però Se guardiamo qua sopra Sono anche RGB Quindi una volta inserito nel case Questi qua si illuminano Come posso dire, di altri colori Spero che si può anche diventare solo rosso Oltre a quei colori misti come l'arcobaleno Comunque sia Questo, diciamo, pezzo del PC da gaming Mi è costato 92 euro e 99 centesimi Il terzo PC da gaming è questo Sono delle ventole RGB Da 120 mm Sono delle PWM Up here Allora ragazzi, per ora ne vedete solo uno Ma in realtà ce ne sono più di uno Eccolo qui Eccomi se è caduto il pezzo dopo l'ora Comunque sia ragazzi Queste qui Vengono utilizzate Non soltanto per Diciamo, raffreddare il PC Ma queste qui In queste ventole Danno anche bellissimi colori Quindi ci può essere Anche da, come posso dire Da diventare un po' più stilisti nel case Comunque sia Queste qua Mi sono costate più di poco in realtà Mi sono semplicemente costate 30 euro e 99 centesimi Il quarto pezzo PC da gaming E' questo Il E' il Seagate Baracuda Unità disco interna Da 4 terabyte Allora ragazzi Adesso voi Mi dite tutti quanti A dire Ma non te ne bastava Soltanto il 2 Frena 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 Vi voglio ricordare Che il mio PC da gaming Non è soltanto fatto Per giocare Streamare Ma anche Per Lavorarci Quindi Meglio qualche memoria in più Che qualche memoria in meno Non vi trovate? Comunque sia Questo E' un'altra E' un'altra memoria interna Quindi questa è la seconda Per questo io Nella memoria Quella di prima Ho detto che è la prima Questa invece E' come la seconda Come se fosse una memoria esterna In ogni caso In ogni caso Questa è la seconda Unità interna Da 4 terabyte Già l'ho detto prima E vabbè Comunque Questo gioiello Mi è costato 88 euro E 90 centesimi Il quinto pezzo Del pc da gaming E' questo AMD Processore Ryzen 7 3800 XT Che porta 8 core E 3.9 GHZ Non so come si dice Ma vabbè Socket AM4 Boxato Comunque ragazzi Questo è il cuore Del mio pc E questo gioiello Sapete quando mi è costato? 348 euro E 90 centesimi E ora raga Passiamo ai pezzi più grossi Cominciando dal Sesto pezzo pc da gaming Ovvero Questo Asus Tuff gaming B550 plus Non è altro che una scheda madre Allora adesso ragazzi Prima di dividere il prezzo Ve lo faccio pure vedere Però Senza Sfogliarlo Perché Io sui pezzi Diciamo delicati Previsco non toccarlo proprio Eccolo qui Ecco qua Comunque ragazzi Questa qui Mi è costato 152 euro E 53 centesimi Il settimo pezzo di pc da gaming E' questo Il corsair rm 750 Non è altro che un alimentatore Ve lo faccio anche vedere Veloce 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 ecco qui Aspettate Ecco qua Ora si vede molto chiaro Eccolo qua Ecco qui Vedete quanto è grosso 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 Comunque ragazzi Questo alimentatore mi è costato un ben 114 euro e 90 centesimi L'ottavo pezzo del pc da gaming è questo qui è un cosair hydro h100 x non è altro che un dissipatore per raffreddare il processore Comunque ragazzi Questo qui mi è costato 97 euro e 99 centesimi E ora ragazzi siamo arrivati alla giliegina sulla torta Ecco a voi Il penultimo e nono pezzo del pc da gaming Ecco qui Tadà E' una scheda video ragazzi Che finalmente l'ho presa Si tratta di un MSI NVIDIA GTX 1650 liscia Allora ragazzi Vorrei dare una piccola premessa Io Ero inizialmente partito di voler prendere a tutti i costi La serie 3000 Avevo pensato di prendere o una 3070 O una 3080 Ma purtroppo Per quattro motivi diversi Non si può prendere queste schifte Schede video qua Cioè non è che non esistono Diciamo che quelle schede video Ci sono Ma i prezzi Sono sopra apprezzati Per diversi motivi La prima La pandemia Quindi ha bloccato tutta la produzione Il capodanno cinese Che ha bloccato il mercato Lo scapping Che è una cosa molto scandalosa E anche i money Che usano le schede video Soltanto per minare Quindi per fare solo soldi Niente di più e niente di meno Quindi per queste quattro motivazioni E' veramente un casino E quindi io mi sono detto Ave preso una scheda video provvisorio E ho trovato questo Però vi dico subito Che questo prezzo Purtroppo Con il prezzo che ho pagato E' usato Ma Ottime condizioni Ottime condizioni E vi dico già da subito Che con questa scheda video qua Il limite massimo Di Puri Giocare Con tutti i giochi Sono solo 1080p Per 60fps E' vero Avrei voluto Almeno una scheda video Che si giocasse Almeno in 2k O in 4k Ma purtroppo Questa cosa Non è successo Ma non vi preoccupate Che l'anno prossimo Ci sarà Un upgrade Importantissimo Comunque Questa scheda video qua Nonostante ciò Che è usata Ma con Ottime condizioni Mi è costato Solo 295 euro E adesso ragazzi Manca l'ultimo pezzo De pc da gaming Ovvero Il case E ve lo dimostro Così Ecco a voi Il case Ovviamente Con tutti i componenti Già che sono montati E si vede anche da qui Vorrei ringraziare Di cuore Pasquale Che mi ha fatto Un ottimo lavoro In ogni caso Questo case Si tratta Di un Cool & Master H500 Inoltre Inoltre Volevo Farvi una piccola premessa Prima di metterlo in funzione Come ho già detto prima Qui dentro Vedete già tutti i componenti Già tutto Bello montato Di vedere qui Qui sembrano Delle ventole In realtà Non proprio Qui Sono delle ventole Si ma Sono quelle Del dissipatore Volevo mettere Le ventole RGB Ma purtroppo Non si possono fare Quindi Come stanno le cose Raga In questo case Sarà Metà RGB E metà No Ma non vi preoccupate Con l'upgrade Diciamo Aggiusterò Diciamo Questo mio piccolo errore Non vi preoccupate Intanto Lo metteremo In funzione Vedete Già quando si accende Ci sono questi Due led Giganteschi Che cambiano colore Addirittura Mamma mia Spettacolo Guardate anche qui Tastiera Mouse E tappetino Addirittura Mamma mia Anche queste Sono RGB Veramente Impressionante Impressionante Veramente Se andiamo a vedere Da questa parte Eh Anche le RAM C'è Sono RGB Veramente Spettacolo Sarebbe stato Più bello Se Anche qui E lì Sarebbero state RGB Sarebbe stato Magnifico Se spegniamo La luce È Veramente Magico Peccato Per il dissipatore Che non è RGB Ma non vi preoccupate Aggiusterò Questo errore Comunque adesso Passiamo alle Conclusioni Finali E con questo Raga Si termina La mia Dimostrazione Della Bid Del pc Da gaming E gli ho Dato anche Un nome Lo volete Sapere Qual è Tirannosaru Zord Esatto Proprio come lui A parte comunque Gli scherzi Volete sapere Il totale Di tutti i pezzi Che ho comprato Finora Ve lo dico subito 1422 euro E nove centesimi Pazzesco Vero In pratica Ho creato Una bid Di 1500 euro Sarebbero state Di più Se avrei preso Una scheda video Diciamo Di ottima qualità Che però Purtroppo Per i casini Che ho già detto Prima Non è avvenuto Ma non vi preoccupate L'anno prossimo Ci saranno Ci saranno Scusatemi Degli upgrade Importantissimi E un'ultima cosa Vorrei dire Link in descrizione Se volete vedere La mia bid E se vi va Potete anche Acquittarlo Se volete E Con questo raga Io termino Questo video Lasciate un bel like Su questo video E noi ci vediamo Ai prossimi video Dal fenomenale E tutto Ci vediamo raga Monte Corbino Monte Corbino Rodriguez Monte Corbino 石 Monte Corbino No, no!